Per la prima volta nella sua storia Imperia è riuscita a conquistare la bandiera blu assegnata ogni anno dalla Federazione Europea contro l'inquinamento, le località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di banneazioni e servizi offerti, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Un ruolo fondamentale nella conquista dell'ambito riconoscimento è stato giocato sicuramente, fra le altre cose, dal ripristino del depuratore del capoluogo, parametro fondamentale per poter ambire alla bandiera blu. Intanto, sempre in merito alle spiagge, proprio in questi giorni, hanno preso il via i lavori di sistemazione di moli arenili che sono partiti da Unegli e raggiungeranno presto Borgo Marina e Il Prino, in modo tale che il mese prossimo il litorale sia pronto al meglio per la stagione turistica. L'assessore alle spiagge all'ambiente Laura Gandolfo ha fatto sapere che saranno anche rinnovati gli impianti delle docce e delle spiagge libere e che è stata anche disposta la sistemazione delle scogliere e dei moletti della Galeazza che erano stati danneggiati dalle recenti mareggiate.